oh bravo prendiamo il nuovo playmatch di fandom rage che dovevamo spussare andiamo vai oh si unisce forse belli si preva ma ne mancano due per fare il tappetino questo ci passa Konami no veramente allora noi ora stiamo scherzando però vi dovreste veramente vergognare siete un'azienda che guadagna non so quanto da noi ma ma serio cioè siete veramente una vergogna è il giorno che vorrete sponsorizzarci non vi dirò mai sponsorizzarci non vi dirò mai che il prodotto è bello sei quando queste potrebbero uscire ma sicuramente il video non verrà tagliato questo ecco qua bella vai da fra e dal nonno mi raccomando e vi ricordo di mettere like iscriversi al canale condividere commentare richiedere ed ecco o da ci consigli che volete e in più vi ricordiamo soprattutto che descrizione ci sono tutti i link per contattarci o seguirci sui vari social e acquistare sui vari e commerce che usufruiamo ci ragazzi ci sono i link perché i video i commenti sotto non vengono considerati c'era non possiamo prendere i commenti al di sotto come commenti per la vendita eccetera sarò diventato casicato andiamo a sfida quindi mai almeno su questo il topettino abbiamo già perso andiamo a vedere ovviamente ci soffermiamo allora sulle ultra e sulle secret e casomai sulle parallel se quella vuole perché per almeno io non ho mai visto un video perché sono state qui è così però non da me io sì così c'è chi sgusta bene e chi non però in video sarebbe più più o meno allora qui andiamo a vedere come possiamo vedere per l'appunto su un altro drago sempre dell'exis rivoluzione che ci troviamo qui sì esatto che rabbia fantasma e andiamo a cercare ovviamente carte nuove del phantom dei pk dei phantom knight i cavalieri fantasma ah sono divulgati si ci sono qui è la carta diciamo più desiderata del momento che è lo zeus l'exis fenomeno cioè vabbè le carte sbagliate che fa con con zeus andatevi a prendere il fumetto di ragnarocco coraggioso minguino eh no questo lo devo far vedere il coraggioso minguino ehi partiamo bene buscio mondo virtuale mixis salto rabbia è un mutante un maiutante mutante ultra ve le potete tranquillamente risparmiare proprio ho detto sinceramente cioè fare queste carte ultra è praticamente trovare la carta inutile ultra va bene ecco mi è uscito un pugno di giugno bellissimo quelle carte sono bellissime gli altri di quelle carte sono fenomenali però ricordi anche perché andremo a vedere che di quelle ci sono anche le sì ovviamente ci sono vado direttamente di banda rock xeno chitarra e una città mondo virtuale cavolun ah poi ovviamente ricordiamo perché me ne avevo scordato anch'io ci sono i 3 brigade che sono i 3 brigade o anche chiamati i link virtuali perché vengono fatti praticamente dal cimitero senza essere mostri un altro mutante arsenale un coraggioso pinguino i cavali di fantasma raid raptor un coccodrillo belliccia mercenari mi sa che il nonno ha sbustato ha sbustato nonne ha sbustato nonne ricordiamo come sempre non ho capito niente però ricordiamo come sempre bellissimo alfa il signore delle bestie si fa un casino se l'attacco dei mostri dell'avversario è superiore a quello dei tuoi mostri puoi scegliere come bersaglio un qualsiasi numero di mostri bestia guerrero bestia o bestialata che controlli ti fai ritornare nella mano poi fai ritornare a mano mostri scoperti del tuo avversario per il numero di carte che hai fatto ritornare nella mano inoltre per adesso di questo turno l'alfa signore delle bestie che controlli non può attaccare direttamente bello fai ritornare in mano tutto figo è un tribrigata shuraig il sinistro presaglio questa carta quando viene evocata specialmente allora richiede intanto due mostri bestia o guerrero bestia e o bestialata quando questa carta viene evocata si o viene evocato un guerriero un guerriero bestia un bestialata bandisci una carta sul terreno fortissima entro bandisci si quando viene mandato al cimitero ti può riprendere un guerriero un guerriero bestia eccetera merfi merfi gioiosi ritornalo ma ci sono ancora ritornalo per la mia felicità vabbè che invece l'ha ancora è giusto il nuovo archetipo lo devono anche per la felicità di lo devono sponsorizzare oh lì va e vita una sincronia perfetta a un uno otto un arcidemone tannato demone eterno si ci sono i ranchi demon eterno di nuove carte con i supporti artiglio cavaliere fantasma di red raptor scopa e dovevo farlo del forte bellissimo l'artwork si l'artwork si infernobile cavaliere capitano oliver attore vabbè sta andando bene un'altra tribrigade tutte le carte che si gioca in tribrigade ok tribrigade è una di quelle più utilizzate qui dentro a me invece quella brutta sarà proprio da ricerca ah ok sono uguale no sono tutti uguali cioè lo sforzo capito quando non hai voglia di lavorare ma solo di guadagnare mutage m05 no veramente un'altra ultra maihime mondo virtuale lulu ci sono anche le mondo virtuale lulu che però lulu era vabbè psichico tunnel effetto ecco è la città virtuale del mondo virtuale ed è questo è quello che ho il cavulum poi c'è una sincronia perfetta e che cavolo I don't know oh una bella direttrice di neftis ovviamente c'è anche la carta che si trova secret cosa che nei pacchetti promozionale nei pacchetti da secret e passata comune mutante al sedale un maiutante maiutante o un mutante secondo te mutante 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 ah un mondo virtuale giu giu dopo lulu giu giu una nuova carta per i cioè è sempre un drago delle fusioni dei dogmatica perché c'è solo un caso di auto è un mostro livello 8 superiore oh ti torna anche gizmec vediamo che fa non può essere tutto in battaglia mentre controlli questa carta evocata mentre controlli questa carta evocata mentre controlli questo elemento versare durante la in the face questa carta nel cimitero perché ci stiamo andati in questo turno poi giu la tua mano ho evocare specialmente un mostro tribigata ho un caduto di albats dal tuo deck direttamente bello c'è un'altra di quelle carte un laboratorio di evoluzione mutante c'è un'altra di quelle carte non so dove sono incredibili x-men i mutanti ho le mutande è la prima fusione dei il duplice avatar ovviamente non è il tuo arsenale mutante si si andiamo andiamo vediamo proseguiamo e lui proseguiamo dovrebbe si si yui bellissima comunque le artwork di questi sono spaziali drago x y z ribellione arc si si sarebbe il nuovo allora si tre mostri di livello 5 ma questa carta evocati xyz non può essere distrutta dagli effetti delle carte puoi staccare un materiale da questa carta come costo questa carta guadagna attacco pari alla somma delle attacche originali di tutti gli altri mostri sul terreno poi se questa carta ha un mostri xyz oscurità come materiale annulla l'effetto di tutti gli altri mostri coperti del terreno dopo che questo effetto si è risolto non puoi dichiarare attacchi con altri mostri presso questo turno e poi utilizzare questo effetto di drago xyz si riveli una sola volta per turno figo ma se lo potevano risparmiare un log lungo 10 tre mostri di livello 5 e sai è forte ma è veramente lenta cioè chi mette tre mostri di livello 5 calci duplice avatar co co un pugni duplice avatar ma 1 a 8 le viste 1 a 8 ok ottone un mutante bastia un calci duplice ah ok si duplice avatar un ghiot razzaro oh ma quale si crede mi fu uscita? eh adesso si è tutta a te allora e perchè? e che centro? ah si è uscita in più di ah si è uscita la terza e mi sei si melfi gioiosi eh io vi ricordo la tribligata 1 eh no e poi mi ci do eh ma cos'è mia? e poi arc arc non è sigle è arc e sigle quindi è uscita la terza la sigle buona eh ogni tanto che fai shen 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 del del mondo virtuale più più mondo virtuale un infernobile l'andiamo a leggere si andiamo a leggere un tuner più un mostro non tuner cioè un tuner più uno o più mostri non tuner qualsiasi carta ma dal terreno al cimitero viene invece bandita così 8 9 ah questa è la carta puoi utilizzare uno dei secondi effetti di gioio virtuale shen c'è una sola volta per turno quando un mostro dichiara un attacco puoi far ritornare un mostro bandito nel cimitero del proprietario un mostro bandito nel cimitero del proprietario durante la tua main phase eccetto nel turno in cui questa carta è stata mandata al cimitero puoi bandire al tuo cimitero altri due mostri con tipo e tributo originale verso dall'altro e voglio specialmente questa carta dal cimitero questa è forte pure nel 2 ice perchè può fare l'esincro di livello numero ah ok quindi è come avere cioè un asincro che bandisce tutte le carte che vanno al cimitero quindi l'avversario per l'avversario è difficile giocare un lao 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 è un ragazzi birichini miau miau ecco stiamo lao lao miau e poi un drago molto virtuale un altro lao 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 no 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 si facci le bustine su continui con le sue vado io vado io un altro box lao 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 vale super ah ok stai dividendo te pardonne ero pezzo perché a me dovrebbe uscire la secret prendi tu è quello quello che vuole fare se no chitarra mi dovrebbe mancare pure la ultra ancora se non mi sbaglio quante ultra si trova non mi ricordo io ho trovato la ultra no io ho trovato lui mutant e lei è uscita è uscita la ultra la nuova carta ehm la special eh si allora è uscita l'ultra in meno meglio start mutant mutant super la secret non lo dice non lo dice ma magari bestia mondo virtuale è giugno si però dico io la questione se a me non esce cosa è servito che ho tenuto adesso lo spero lo spero lo spero la parallele andiamo un drago di sisac me ne devi un'altra almeno la leggevamo no vabbè no è andato è andato più che bene considerato che abbiamo trovato i tribigate che ci servono ovviamente abbiamo trovato il ribellione arco è figo si si mi piace e andiamo è 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 andato è andato amica del cuore era quella la canzone una dogmatica acian macella la dogmatica ah una nuova dogmatica dalla compagna di ecclesia eeeh due pacchetti due ultra a me ho un kokoku 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 dopo il coraggioso pinguino mi bastano come comune un gatto selvatico è un iperstadio ua ua noi non bussiamo niente la u e la a si usa nisi e fai iperstadio ua che è arrivato il mega direttore terminato che non ti aspettavi ua ua bello oh yeah come minimo è una parallel carta pokemon un yuki mutante ultimus una fusione per i mutants eeeh si molto rarizzati però cosa serve serviranno 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 poi c'è un laboratorio mutante ah bella ultra si ci sta la seconda mutante nebbia fammi vedere questo che fa mutante ultimus tre mostri mutante nebbia no non ci credo annullato ahahahah cioè stavo in giustiziazzi allora quando viene attivata una carta un effetto effetto rapido può bandire la tua mano cimitero terreno una carta scoperta mutante mutante dello suo tipo molto male tra annullo l'attivazione se lo fai bandisci quella carta ah è tipo il è tipo il invoked se questa carta è vocale tra niente così contro l'effetto della carta avversaria poi già fino a tre carte mutante bandite fino a uno ciascuno dimostra magia e trappola che figo miam miam poi l'altro che è finito il collo dei prank il mazzetto quello eh eh scopa che bello i ragazzi birrucchini oh oh è lui oh il cavaliere fantasma delle scaglie lacerate puoi scartare una carta mando una carta fantasma dato d'ecca al cimitero eccetti i cavaliere fantasma delle scaglie lacerate se un'altra carta cavaliere fantasma nel tuo cimitero viene bandita mentre questa carta nel tuo cimitero può evocare specialmente questa carta le carte fantona e si bandiscono per fare degli effetti ah ok ma bandiscila quando lasci il terreno puoi utilizzare un effetto di cavaliere una volta per turno è fortissimo nel cavaliere e gg poi mi è uscito un altro brigrand il drago glorioso se volerà un po' capire il tri brigade perché tri esce tri e sono esce no non esce ah no così è troppo che troppo ricerche tri brigade poi una super chi era il tri ma vedi sull'espansione proprio ah tu dici ah tu dici dovrei averlo fatto quanto regge singole no ah no mettiamo più care ita la magliatrice del fuoco ovviamente la starlight sta qua scherzo all right all right allora ovviamente l'arsenale divino zeus è la carta più più costosa tri brigade più o meno il cavaliere fantasma delle scale sta 35 euro alfa il signore delle bestie 45 euro quella che ho trovato sia il cavaliere del fantasma che si è fatto apposta un'altra 3d gate ecco dovrebbe no questa è con la ultra ok drogues di ribellione arc una bella quindicina d'euro perciò parte zeus zeus e poi alfa quello che hai trovato tu ah ok all'inizio il super leone poi c'è punto di avvertimento mutante ma tecnicamente non è molto costosa come espansione rispetto a quelle dove ci sono si riportate caltale gozzoline proibite le documatica tantissime carte poi fighissimo fighissimo guarda quanto è felice coi ghiò potenziato no senta così è brutto con ghiò con ghiò vuole un duplice avatar più due mostri duplice avatar se questa carta combatte il tuo avversario non può attivare carte effetti fino alla damage step se questa carta attacca dopo il calcolo dei danni puoi far ritornare nella mano un mostro contro l'altro avversario quando viene attivata una carta magia trappola del tuo avversario un suo effetto che sceglie come avversario una carta sul terreno questa carta sul terreno mentre controlli due più mostri fusione effetto rapido può non avere attivazione puoi attivare questo effetto di una sola volta per turno invece la tribrigata ah il mostro il mostro no blackjack blackjack 4 4 stelle 19 6 mutan 6 6 6 un artiglio vedete un artiglio di un artiglio di un artiglio di un artiglio una città una città monosida che ha già visto il mesto hanno fatto c'è da trovare la terreno dei in teoria qua dove può uscire la sigaret boom boom zeus boom questa è bella la boom boom assalto aereo tribrigata la secret la secret e andiamo allora leggiamo zeus zeus dice che vuole due mostri di livello 12 per essere fatto ovviamente non esiste modo per farlo cioè ci sono però molto complicato una volta per turno se un mostri xyz ha combattuto in questo turno puoi anche evocare xyz arsenale divino a zeus tuono del cielo utilizzando un mostri xyz che controlli col materiale quindi attacchi con un mostri xyz e lo evochi sopra subito dopo e trasferisci materiale ovviamente su questo effetto rapido stacca due materiali da questa carta manda tutte le altre carte dal terreno al cimitero tutte da dove tutte le altre tutte le carte sul terreno le manda al cimitero di chiunque tutte proprio tutti levi tutto una volta per turno se uno o tre altre carte che controlli vengono distrutte in battaglio dell'effetto di una carta dell'avversario puoi attaccare una carta alla tua mano d'eccox extra d'eccox questa carta col materiale così si riempie di nuovo fortissimo è sbagliato anche il modo in cui si è raga 12 però non è quello il problema perché si evoca da sopra si evoca sopra all'altro capito quindi ah questa è la terreno no mannaggia no la sigla no la sigla l'ho trovata un'altra tatan allora questo sono tutto contento no si 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 mi chiamisco la potenza la bellezza delle carte quanto vuole andare avanti più o meno più o meno andiamo coglio tutti i box una testa una testa e dai secret parallel la parallele la puoi vedere che è solo una è la vita ah solo una solo una si è la parallele di questo box eh per ora ce n'è soltanto una non lo so cioè mi dà come prezzo più alto quello dovrebbe essere quella non so se ci sono ci sono parallele che sono così poco me ne compro andiamo le parallele d'altine se vuoi roshi vabbè ma so fine le parallele d'altine red raptor capitano oliver quella sarà giocata ovviamente partiglio quella sarà giocata nel hyperbobb no nel sicuramente nel prelisi ah e si perché è una sincropaglia da fare un'altra mutandis assalto aereo tribbrigata c'erano quasi tutto il tribbrigate già completo per chi lo volesse affrettatevi qua le carte sono volate 2 access code in 24 ore boom questa è un'altra carta che si gioca nel il cavaliere ride 2 rea exis effetto questa carta viene sempre considerata come una carta cavaliere fantasma ride raptor come sempre puoi saccare un'altra carta evo che specialmente ha dato extra deck un mostro exis cavaliere fantasma ride raptor o drag exis che è ahhh ahhh è qui che casca l'asino eh non lo sapevo ecco e si a te puoi staccare un materiale da questa carta evo che specialmente da due strade ecco un mostro exis cavaliere fantasma ride raptor o drag exis che è di un rango superiore o inferiore a questa carta 4 5 sale sopra ecco lì fortissima perché è forte però ok allora si combo è qui che casca l'asino il fagiuolo guarda il segreto a testo ragazzi birichini un'altra ultra un conghio un conghiato bellissimo quel mazzo è bellissimo cioè sono veramente bellissimi c'è una fusione secret però se non mi sbaglio è riuscito il laboratorio di evoluzione mutante netflix netflix questo video è sponsorizzato da netflix netflix la versione pezzotto pezzotto un calci dublice avatar hyperstadio ua hyperstadio ua hyperstadio ua calci fenice mondo virtuale fan 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 due mostri di livello 6 una volta per tu uno stacchi due materiali da questa carta sciogli con la versione una carta scoperta con l'autotot avversario è una carta in qualsiasi cimitero bandiscile se questa carta evocata ex viene distrutta in battaglia con un mostro attaccante dell'avversario o dall'effetto di una carta dell'avversario mentre nella zona mostri del suo proprietario puoi evocare specialmente i due mostri mondo virtuale con lo stesso tipo attributo l'uno dell'altro dal tuo deck amore si tu lascia ah si la mia mia la what a cosa cosa si chiama la dogmatica la dogmatica mia 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 duplice avatar un dio perazzato il me mondo virtuale e il doctor l'agnos strangolante un molto un duplice collettato agio bellissimo mutante sintesi un pensiero se lo facciamo colmato un brick grando drago glorioso chi è un brick grande la fusione cuca ah si la fusione è quella che serve per dare i dogmatica e invece qui in questo caso ti evoca o aggiunge la nebbia e il figolo mortificando sale vediamo 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 melfi inutante no 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 come nini è da sparare con me dogmatica ashigan ashia allora secondo me quando dovete prende i pacchetti partire dalla vita è vero questo pacchetto sia quello di prima no però c'è l'ultra il primo di patrice segret è uscito il punto di avertimento bella quella è un altro di quelle grosse signore allora vi dico che quando uno o più mostri vengono evocati in questo turno quei mostri scoperti non possono attaccare i non effetti sono annullati inoltre possono essere utilizzati come materiali per evocazione fusione singolo exis o link forte ho fatto il 3 per ho fatto il 3 per c'è tutto ora ora c'è veramente tutto chiunque che si serva riserve completo abbiamo appunto il brigade ultimo pacchetto la mia triplicata che è per un momento ci ho sperato nella linea invece ita nella l'ho definito si ah si ci andiamo a fare un recap veloce qua qualunque ha detto che andava tutto è perché è finito ah ma no non era quello il patto qua è tutto il case no sono le metà tu che dici come vuole fare come il cerchio il triangolo no vabbè pensavo che quella con te ne entra un 800 su 2000 c'è qualcosa che non quadra secondo me è giunto altre carte che non c'entravano niente allora abbiamo trovato quindi 3 madonna dell'arc madonna 2 assalto aereo triplicata ah no però solo 2 triplicata ah quindi quello è un altro no beh ne ho trovati 3 ce ne deve essere un altro sono 3 5 7 10 12 13 perché invece la sigletta in più 6 per 2 12 sì però io sono forte ha bussato la sigletta in più poi 1 per di tutte queste carte tra cui Zeus e punto di avvertimento che secondo me punto di avvertimento sarà una carta contro fortissima di ultra 4 laboratori 3 4 brigrand 3 duplice no 2 duplice avatar è un armitae il fantasma del caos il fantasma del furore fico un cavalier ride una finice 3 ashyan un triplicata fractal oi mutanti li abbiamo proprio iettati sono usciti all'inizio quando ho detto è meglio se non usciamo più che ci trattano male è meglio è meglio un all ride e poi infine due triplicata fairy shit la fioritura arida molto molto giusto ti trovi si mi ricordo tre mi ricordo mi ricordo di averne trovato tre però come sempre la parola non è uscita però ci accontentiamo di sono uscite sono belle le carte sono uscite ultra si e niente raga grazie mille per la visione bravo aggiungiamo qualcosa un saluto un saluto a tutti coloro che ci seguono che ci supportano che ci supporta ti aspettiamo tutti i giorni per divertire comunque conami d'argoniti bella voglia